in salute con marco un podcast di marco bianchi un viaggio nel corpo umano a 360 gradi tra scienza e alimentazione episodio 21 nutrizione e bambini la limitazione ideale dei nostri piccoli benvenuti una nuova puntata in salute con marco e oggi ritrovo un'amica qua a chiacchierare insieme ciao francesca ciao marco ufficialmente però sei la dottoressa gelfi ok in arte leguminosa ti troviamo sui social sei molto cliccata molto voluta parli di alimentazione in gravidanza alimentazione in fase di vezzamento insomma dai delle curiosità pazzesche ai neogenitori ed è una cosa fondamentale perché sono sempre tutti nel pane questo è un oggetto un argomento molto gettonato e oggetto di tante discussioni nelle famiglie italiane e poi vabbè sei anche autrice autrice quindi ti troviamo in libreria e possiamo anche seguire i tuoi consigli anche attraverso i tuoi libri esatto veniamo a noi quindi abbiamo anche lavorato insieme abbiamo un'esperienza nel mondo della prevenzione ovviamente col cibo si sta parlando e però ecco poi tu in questi ultimi anni sei molto focalizzata specializzata un po perché mamma un po perché ti piace poi insomma stare anche fornelli ad aiutare queste queste giovani in realtà che vanno appunto spesso nel panico ma che succede a queste mamme che devono iniziare a cucinare per i figli guarda marco mi hai fatto proprio un'introduzione perfetta perché sono stata io la prima ad andare nel panico quindi adesso un po riscatto non aiuto le altre mamme a non andare troppo nel panico e perché quando si è neomamme si va nel panico per qualsiasi cosa soprattutto per l'alimentazione prima fase allattamento già non è facilissimo poi si passa all'alimentazione complementare si ha paura no quanti grammi di nutrienti devo dare al mio bambino per farlo crescere perfetto no e quindi bisogna invece avere degli strumenti semplici questo è proprio il mio primo obiettivo insomma in quello che faccio nel mio lavoro di divulgazione quindi c'è anche sempre questa paura del dover dare troppo troppo tanto troppo poco cioè la bilancia sempre presente nelle cucine delle delle mamme insomma dei papà che cucinano perché questa ossessione legata secondo te comunque la grammatura assolutamente guarda hai detto una cosa perfetta bilancia in cucina e poi anche peso dei bambini cioè queste due cose sono sempre lì e a volte ci fanno un po perdere invece quello che il nostro istinto no e vedere che magari un bambino può avere a volte più fame a volte meno fame no sulla base di com'è andata la giornata e invece per paura che non mangi abbastanza questo purtroppo noi italiani ce l'abbiamo nel dna e ci affidiamo a queste tabelle che invece servono ma fino a un certo punto cioè dovrebbero servire a farci capire più o meno la giusta proporzione tra i vari gruppi alimentari nel pasto però faccio sempre questo esempio io no ai genitori che vengono da me in consulenza le nostre linee guida ci danno delle grammature che vanno dai 6 ai 12 mesi cioè la stessa grammatura no figurati è impossibile quindi poter un bambino non mangio uguale a 6 a 12 mesi pensa come sono diversi tutti i bambini di otto mesi italiani per le nostre linee quindi come possiamo pensare che quelle grammature siano giuste per tutti i bambini formare in un solo modo in un programma il tutto il professor agosti che appunto è pediatra di vivienne quando nacque mi disse bilancia non serve in casa mi raccomando né per il cibo né per vivienne infatti fa la porti da me nei miei controlli controllerò io quanto sta crescendo perché per il resto te ne accorgi tu quanto un bambino ovviamente reattivo cioè imparare ad osservare comunque e questo va fatto anche in cucina immagino perché somministrare un determinato alimento capire se può piacere o meno variarlo cioè credo siano le regole di base che anche tu vai a promuovere insomma suggerisci al alle nelle famiglie italiane esatto assolutamente infatti la prima cosa che insegna proprio a farsi l'occhio quando si realizza il famoso pasto completo che ormai lo conoscono tutti no nella teoria ripetiamolo però da cosa è fatto il pasto completo da un cereale o derivati pasta pane eccetera una fonte proteica che deve ruotare nella settimana le verdure che a differenza di noi adulti in svezzamento vanno proprio date poco 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 e grassi buoni questo lo sai o mai tu sei il paladino dei grassi buoni e questo è il pasto completo no e dico sempre genitori fatevi l'occhio il cereale deve essere almeno il doppio della fonte proteica perché si è visto che troppe proteine nei primi anni di vita non vanno bene oh questa è un'altra cosa che proviene un po anche dal tuo passato di ricercatrice sì assolutamente diciamolo e condividevamo giusto sì il bancone insomma abbiamo fatto tante cose insieme relative anche proprio a questi queste nuove teorie anche se legate proprio al alle troppe proteine presenti nella dieta che non era così non è una cosa così buona e salutare e poi si è scoperto anche nei bambini può essere una sorta di campanello d'allarme quasi di pre obesità esatto quindi mi stai dicendo che il doppio della quantità di cereali rispetto alla proteina presente in volume certo ovviamente quindi a fine cottura il volume del cereale deve essere almeno il doppio della fonte proteica e poi non aver paura di abbondare tra virgolette con i grassi perché i bambini hanno un fabbisogno molto elevato di grassi in percentuale rispetto a noi e invece quello che una volta no ci dicevano fatti questi grandi brodi passati di verdure le verdure sono poco caloriche i bambini sono bruciano energia hanno bisogno di crescere quindi le verdure non sono essenziali dal punto di vista nutrizionale però qui se posso introduco un argomento per me importantissimo i primi pasti non sono importanti solo per i nutrienti che contengono ma per quello che insegnano i bambini quindi le verdure non hanno un ruolo nutrizionale ma hanno un ruolo che è quello di dare esperienza sensoriale i bambini devono conoscere le verdure quindi non ce ne frega di nasconderle nei passati nelle polpette nei sughi dobbiamo darle in mano ai bambini cotte adeguatamente con i tagli sicuri eccetera ma i bambini devono toccarle annusarle guardarle conoscerle quindi in svezzamento le verdure servono solo a quello non hanno un ruolo nutrizionale quanto sembrava parlare dai mi svegli tornare nei nostri corsi di cucina anche e voglio sapere anche questa cosa cioè come fa a orientarsi un genitore insomma una coppia di genitori nel man mano che il bambino cresce cioè devi cambiare quantità in base alla loro attività famelica che ha il bambino e ti basi su quello fondamentalmente immagino chiede un bis inizi da una porzione più piccola poi puoi aumentare dopo a cosa dobbiamo stare attenti quando iniziano a crescere cioè dai 6 ai 12 mesi ci sarà un cambiamento incredibile nei bambini ma allora ci sono due risposte diciamo la prima è seguire sempre questa proporzione comunque il cereale deve essere sempre più abbondante della fonte proteica le verdure pian piano possono aumentare nel dubbio se i bambini hanno ancora fame noi proponiamo sempre un cereale in più un po di verdura in più basta non eccedere appunto con la famosa fonte proteica poi se la fonte proteica sono dei legumi possiamo darne un po di più invece la carne e il pesce che sono più concentrati di proteine allora meglio non esagerare la fonte proteica scusa francesca rientrano anche immagino formaggi e le uova e le uova sono cinque le principali no le più concentrate sono la carne e il pesce quindi quelle che già in un piccolissimo volume ti danno tante proteine anche lì impariamo a conoscere i nostri bambini se sappiamo che vanno matti per un tipo di pesce quel giorno lì ne mangiano un pochino di più la sera gli daremo un po meno fonte proteica dobbiamo poi c'è sfruttiamo il momento del pasto per conoscere i bambini quindi man mano che li conosciamo li assecondiamo perché questo tipo di piatto deve essere presente in tutti i loro pasti principali sì guarda non so come hai fatto a farmi questa domanda ma per pura coincidenza oggi una mamma mi ha detto mi hanno detto che adesso mia figlia abbastanza grande posso non fargli più la pasta la sera può mangiare solo il secondo col contorno perché a un certo punto non serve più il cereale a cena no come mai ma perché sulla low carb invece sì il pasto deve essere sempre così e i bambini sanno autoregolarsi sulla questione del volume no fame certo quindi se i bambini ne vogliono ancora si aumenta gradualmente la porzione ci saranno i giorni che ne vorranno di meno i giorni di più ma si seguono proprio le loro richieste assolutamente ma per quanto riguarda invece la quota invece di zuccheri insomma da portare in tavola o diciamo nella giornata perché mi ricordo un bel lavoro anche che avevi fatto relativo proprio le bibite gassate zuccherate quanto zucchero contenevano cioè tu sei una di quelle che insomma si fa sentire su questo argomento e fai bene a farti sentire visti i tassi di obesità che abbiamo in in italia ecco come ci dobbiamo regolare con gli zuccheri quindi allora più tardi conoscono i prodotti zuccherati e meglio è ovviamente i bambini no e poi pensiamo sempre da dove arrivano gli zuccheri no io dico sempre perché sprecare un'occasione no e giocarsi tutti gli zuccheri della giornata con una bibita quando i bambini potrebbero con la stessa quantità di zuccheri magari o anche molto meno fare un'esperienza sensoriale diversa ad esempio una fetta di torta fatta in casa con degli ingredienti che stimolano consistenze diverse sapori diversi quindi io non sono diciamo contro gli zuccheri in generale perché non c'è scritto da nessuna parte che i bambini non li possono mangiare giochiamoceli bene però abbiamo una piccola quota facciamogli fare appunto sempre esperienza sensoriale perché questa è la cosa più importante ma per quanto riguarda invece tutto il mondo della insomma delle delle merendine mi vien da dire insomma tutti i famosi alimenti ad alza ad alta densità energetica cerchiamo quindi di abolire fino ad una certità perlomeno il nostro canale della spesa cerchiamo di non metterli e coinvolgiamo il bambino nella preparazione appunto di qualche colazione o dolce che sia per far questo però dobbiamo portare il bambino con noi a fare la spesa così almeno conosce anche il prodotto mentre c'è la spesa sì facciamo attenzione perché se poi i bambini vedono le pubblicità mio figlio ha iniziato e poi inizia a dire ma questo ma poi il packaging sappiamo che sono fatti apposta però sì no è importante secondo me portarli anche fargli conoscere che ne so la frutta la verdura soprattutto quando magari crescono un po iniziano a storcere un po il naso perché fa bene coinvolgere i figli nella spesa è qualcosa di buono intendo ma certo poi facciamo scegliere a loro quale frutta preferiscono consumare possiamo introdurre il concetto della stagionalità no quando ci chiedono delle verdure che magari sono fuori stagione questo assolutamente sì sulle merendine appunto come dice del problema è che si appiattisce la varietà sensoriale perché sono sempre con lo stesso sapore con la stessa consistenza mentre invece qualcosa di fatto in casa cambia e quindi i bambini non si appiattiscono appunto su sempre i soliti sapori ma per quanto riguarda invece la carenza nutrizionale cioè c'è un momento in cui il bambino magari rifiuterà di mangiare un determinato alimento panico qua suona l'allarme in casa e scatta la telefonata insomma al pediatra non mangia più non mangia più questo quell'altro dobbiamo preoccuparci di qualche carenza o siamo in un'era in cui siamo super sovran insomma esagerati a tavola è uguale dipende perché è vero che mangiamo tanto quindi il problema ma al solito è l'opposto però i bambini possono avere una fase in cui rifiutano proprio determinate categorie alimentari è curioso perché è un po un istinto sai è una cosa un po innata c'è un certo punto l'essere umano per sopravvivenza inizia a scartare delle cose che non gli sembrano sicure no quelle coi sapori più amari quelle quindi un po istintivo il genitore già se lo sa magari reagisce in modo un po più pacato e già è un buon primo passo seconda cosa è inutile forzare e obbligare i bambini perché se no iniziano ad associare poi il pasto a un momento di stress a un momento in cui non stanno bene non sono sereni e quindi è importante intanto stare calmi però non bisogna per forza non fare nulla possiamo continuare a proporre gli alimenti tenerli sempre in tavola e magari affiancarli a degli alimenti che piacciono di più allora ti faccio un pasto che ti piace tanto e di fianco ti metto anche quello che non ti piace tanto magari un pochino lo assaggi si possono fare tante cose è difficile arrivare ad avere carenze nutrizionali perché appunto i bambini si autoregolano abbastanza bene quando sono un po più grandi se proprio si mettono di traverso a tavola che vuol dire quanti anni e quando iniziano avere quattro cinque anni possono avere una selettività già un po importante però dipende da quanti alimenti scartano può dipendere anche dall'esempio che possono dare i genitori a tavola o banalmente dal fatto che mangi con tuo figlio perché spesso e volentieri ti do il piatto intanto vado a fare mille altre cose assolutamente sì il mio proprio mantra il mio hashtag noi mangiamo uguale e aggiungo noi mangiamo insieme cioè mangiare insieme lo stesso cibo ma si vede anche da alcuni articoli scientifici non sono io che pazzesco mangiare insieme lo stesso cibo è una delle azioni che funzionano di più in assoluto perché prima di tutto tu non sei lì che guardi tuo figlio che mangia che lui si sente oddio tu mangi fai finta di niente ovvio che sei sempre lì che guardi però fai finta di niente lui dopo un po se non si sente osservato è più probabile che timiti soprattutto quando è piccolino no alla televisione accesa assolutamente no tablet o simili a tavola mai perfetto bibite cassate a tavola ma zero proprio si beve compleanno che si beve acqua acqua infatti sono d'accordissimo limone se proprio vogliamo dare una bocca di vita tu dici e poi e poi ah sì nel piatto quanto dobbiamo tagliare le cose nel senso tagliare piccole per sicurezza questo è un altro timone sì 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 tu ne pari tantissimo di questa cosa ecco ma perché è importante non perché no è perché poi è una cosa che adesso i genitori iniziano a stare molto molto attenti quindi è una cosa molto richiesta dai genitori questa dei tagli sicuri perché si dice che è importante offrire proprio il nostro cibo anche i bambini molto piccoli ma bisogna farlo in modo sicuro assolutamente sicuro e quindi ci sono delle forme e delle consistenze negli alimenti che non sono sicure che hanno una potenzialità che è quella di ostruire le vie aeree quindi la prima cosa da fare è sapere cosa non offrire tipo i pomodorini interi le mozzarelline intere tutto quello che è sferico va tagliato in quattro tutto quello che è cilindrico va tagliato a bastoncino finché i bambini non hanno i molari quindi un anno e mezzo due tutto ciò che è duro carote e mele va cotto o va grattugiato ci sono tutta una serie di attenzioni che bisogna avere ma a parte il taglio diciamo e la cottura poi tutto il cibo che noi mangiamo lo possiamo offrire ai bambini quasi sin da subito tu sei arrivata tre figli o quattro no e coi due figli che hai come riesce a gestire i pasti cioè vi siete a tavola e il tuo marito no perché immagino che ovviamente il quattrenne mangia diverso già diverso in termini proprio di di si siti da tavola e vorrà divorare toccare diversamente dall'altro insomma quindi come riesci a gestire però in un'unica cucinata tutto perché tu il tuo bello che scompari dai social in un certo momento dici nella giornata ciao vado in cucina perché devo iniziare a ci viviamo tra qualche ora e poi magari verso mezzanotte fai un saluto e buonanotte e come fai a gestire questo perché però se una donna normale c'è nel senso che c lavori ha dell'impegno una vita insomma non è che si va guarda poi su questo voglio dire tu sei un esempio cioè si può cucinare veramente con delle cose semplici veloci non è che casa mia è un ristorante stellato è quindi mi piace un sacco anche sfatare questi miti non è che bisogna fare quelle cotture lunghe o quegli ammolli giorni giorni cioè ci sono degli alimenti anche e diciamo confezionati come legumi in scatola o le verdure surgelate che ci possono aiutare tranquillamente e poi io vivo di piatti unici cioè la pasta con una fonte proteica unita così hai solo le verdure a parte o cioè il secondo con il pane però cerco sempre di mettere il piatto unico a tavola così quello grande che inizia a fare un po i capriccetti a tavola si trova tutto in un piatto e non può dire niente al massimo mangia quello che vuole non mangia quello che non vuole ma è tutto lì e però sì il piatto unico è quello che ci salva e appunto non demonizzare anche gli alimenti diciamo veloci da preparare i cereali in chicco che cuociono in dieci minuti cioè io uso un sacco questi prodotti non pensate che vado dal contadino tutte le mattine no anche perché comunque abbiamo anche sfatato a livello anche scientifico che anche i parboide le cotture veloci sono ottimali dal punto di vista anche glicemico di fibre presenti quindi comunque hanno i loro vantaggi da tanti punti di vista quindi assolutamente chi fa più capricci però il marito o il quattrenne lo dico questo perché molte molti adulti che ci seguono so che spesso purtroppo vogliono invece una dieta differenziata in famiglia e questo a volte può creare dei problemi un po come insomma purtroppo nella gestione familiare a livello proprio di spesa e poi anche come esempio proprio ai figli stessi come si può avviare a questo guarda in realtà lo svezzamento è un ottimo momento in cui la famiglia decide un po di cambiare con la scusa di dover educare i figli cambiano anche i genitori e tanti mi dicono sai che ho iniziato a mangiare più legumi ho scoperto che mi piacevano cose che non avevo mai provato quindi si può migliorare e no adesso il nostro quattrenne è veramente tosto quindi lui non è imbattibile assolutamente proprio sale sì o sale no a tavola questa cosa fa impazzire tutti perché non c'è una risposta netta certo allora prima di tutto ci abituiamo noi a mangiare meno salato punto primo punto secondo quando utilizziamo degli alimenti molto salati a me piace cucinare anche a te con la feta magari uso che ne so il salmone affumicato pomodori secchi quando mettiamo degli alimenti già salati non aggiungiamo il sale e poi ogni volta che possiamo salare a parte tipo le verdure l'insalata c'è tutto quello che possiamo saliamocelo a parte se proprio lo vogliamo molto salato se invece riusciamo a stare insomma su un livello di salato non eccessivo e vogliamo fare una frittata per tutti anche con i bambini svezzamento la saliamo un pochino e la condividiamo tranquillamente assolutamente non farsi prendere dal panico per questo tipo di indicazioni che abbiamo non cucinare la pasta separatamente una salata una no mille pentole no ok no rilassiamoci e per quanto riguarda invece un nel tuo ambulatorio insomma nel tuo studio passano anche donne in che hanno già avuto figli che sono magari in pre meno pausa invece quindi si è una sfera differente questo è un argomento totalmente ovviamente di volta pagina ci sono dei consigli che possiamo dare anche a queste donne dal punto di vista alimentare perché spesso vanno un po nel anche loro in affanno per cosa devo mangiare cambia il mio corpo cambiano i miei ormoni cambiano i miei gusti che fanno è allora la prima cosa è dare un occhio a come è cambiata anche la vita perché molto spesso non ci si fa caso ma rallenta un po anche lo stile di vita si diventa un po più un po più sedentari e non ci si fa caso no quindi magari l'alimentazione rimane uguale ma diventando un po più sedentari magari il corpo inizia a cambiare ovviamente anche per gli ormoni ma anche proprio perché cambia un po lo stile di vita quindi dare un'occhiata allo stile di vita in generale e vedere cosa è cambiato no dal punto di vista nutrizionale l'apporto di fibra è la prima cosa in assoluto di solito c'è uno scarso scarso apporto di fibra che quello è da aumentare quindi cereali integrali verdura e legumi a scapito invece degli zuccheri semplici cioè gli alimenti molto zuccherati che non intendo la pasta bianca ma proprio i dolci questa è la prima cosa e anche qui non eliminare completamente tutte le fonti di carboidrati che è una cosa che spesso si fa e anche i grassi perché anche quelli fanno un po paura e invece anche questi devono essere presenti quelli giusti ma ci devono essere leguminosa perché leguminosa sui social vuoi sapere come ho scelto il nome no lo so mi ricordo che devi andire agli altri è stato mio marito che poverino lui è cileno mangiava carne dalla mattina alla sera io lo invaso di legumi e lui mi fa ma scusa chiamati i legumi noi ma sì dai sì sì è stato così ma se i legumi gonfiano che facciamo ci svezziamo nuovamente no questa è una cosa bella no lo dico perché anche nei nostri corsi spesso volentieri ce lo dicevano non mangio legumi perché mi gonfiano certo mangiandoli una volta all'anno probabilmente hai un effetto magari di gonfiore abituando gradualmente anche il tuo fisico a insomma consumarli probabilmente le cose vanno meglio esatto infatti in svezzamento si offrono i legumi che si chiamano decorticati no quelli spezzati secchi senza la buccia perché la buccia quella che dà fastidio certo e quindi come i bambini si devono un po abituare noi ci possiamo riabituare proprio con questi legumi qua man mano che iniziamo a consumarli poi tre quattro volte alla settimana anche il nostro intestino si abitua allora per concludere diamo un'idea tipo di settimana nel senso che non ti so che in due menu ma indicativamente dacci qualche idea di cereali da cambiare qualche idea di proteina da cambiare e poi sulle verdure seguiamo un po la stagionalità il cuore il gusto lì non voglio mettere mettere mano e poi risfatiamo il falso mito dei grassi che quindi servono anche per veicolare dei nutrienti importanti che hanno anche altri alimenti e quindi quali grassi possiamo scegliere vai a ruota libera vado allora partiamo dalla fonte proteica un po più difficile che è la carne cioè che uno può scegliere se consumarla o non consumarla e non è così essenziale in svezzamento se la si vuole consumare però non tutti i giorni attenzione perché spesso viene suggerita tutti i giorni due o tre volte alla settimana non di più all'inizio quando i bambini sono molto piccoli meglio quella rossa perché contiene ferro rispetto alla bianca quando sono un po più grandi carne bianca per tutti pesce tre volte alla settimana anche qui lasciamo perdere i pesci magri cioè prendiamo quelli belli grassi che contengono gli omega 3 tre volte a settimana i formaggi e le uova anche loro due o tre volte a settimana così ci aiutano anche a diminuire un po il consumo della carne e poi i legumi quante volte vogliamo anche tutti i giorni ovviamente legumi di tutti i tipi pasta di legumi farina di legumi ne abbiamo quanti vogliamo in merito invece ai cereali anche lì il pane può sempre esserci che accompagna un po la pasta deve essere un po alternata i più semplici da offrire anche bambini se c'è pasta e pane possiamo bilanciare le quantità ma certo sì assolutamente era un po di scarpetta ok va bene cereali appunto differenti scusami esatto allora i più comodi da offrire ai bambini all'inizio sono il couscous che si può mettere dentro le creme le vegetate che è piccolino il riso lo si può dare anche da subito soprattutto nel risotto bello morbido i bambini lo gestiscono bene e lo svezzamento può essere un'occasione per cambiare cereali bulgur quinoa grano saraceno possono essere veramente consumati già da tutti anche la fregola sarda sì sì assolutamente lo dico perché mi piace a volte buona buona quindi mi viene in mente sì sì i più difficili per i piccoli sono l'orzo e il farro che sono un po duri un po gommosi e dopo l'anno dei bambini scegliamoli anche integrali pane pasta non c'è problema dall'anno in poi integrale e i grassi ovviamente olio extravergine d'oliva quello sempre se non mangiamo pesce olio di semi di lino spremuto a freddo anche quello si può utilizzare e poi una cosa da aggiungere subito nella dieta dei bambini appena si inizia lo svezzamento le creme di frutta secca la frutta secca diciamolo creme di frutta guscio come se piovesse attenzione che poi quando le scopriamo ai genitori panico poi dopo perché sono buonissime però tutti i giorni è importante offrirla da subito perché si è visto proprio che non aumenta il rischio di avere allergie anzi sembra prevenirlo e poi i bambini ha bisogno di grassi di energia quindi mettiamole nello yogurt ma anche nei piatti salati dove vogliamo ce ne sono di oltre che di sesamo la classica che si può conoscere c'è di mandala c'è di anacardi l'ho assaggiata buonissima noci macadamia c'è veramente una una quantità incredibile una varietà anche incredibile francesca a me sembra aver detto tutto ma ti rivolgo qui ancora in salute con marco perché abbiamo un altro argomento a trattare insieme ma non anticipo quindi lo tratteremo in un'altra puntata nel frattempo abbiamo credo spero tranquillizzato tranquillizzato tutte le mamme tutte le famiglie insomma che ci ascoltano mi ha fatto piacere ritrovarti grazie mille tanto andiamo avanti a seguirti sui social anche dove ci ci spilloli idee insomma consigli grazie leguminosa dottoressa gelfi grazie mille grazie e noi ci vediamo la prossima puntata di salute con marco ciao in salute con marco è una produzione realize networks